eeeh è possibile facciamo ridere facciamo ridere facciamo ridere le persone facciamo ridere le persone faccio ridere una gente faccio ridere una gente peretto non ce fa niente peretto peretto non ce fa niente peretto se lo scorniamo se lo scorniamo vattene vaffanculo vattene via ma che schifo che schifo peretto ma che cavolo papini ma vattene via ma vattene ma tu si proprio scorninavano tu peretto ma tu mi vuoi mannacciami se è possibile mannacciami se è possibile non siete agenti non basta mai di accorre se lo è pulito qua non si integna da 2 minuti a 2 collo così non si non si non si